Siamo nel garage di Uber, dove vivrà Vincenzo. È una situazione temporanea, però temporanea neanche troppo, perché poi alla fine lui ci sta un pochino. E quindi ci stiamo divertendo un po', perché oggi stiamo ricreando la situazione descritta in sceneggiatura. È descritta che lui viene qui, sono una batteria che praticamente viene ospitato in questo garage, quindi noi vogliamo mettere l'intorno delle cose un po' buffe. Vogliamo mettergli una scopa, dichiaratamente una scopa come bastone per i vestiti. Il comodino è in portattrezzi. Qui gli mettiamo tutti i palchi di corna, una citazione dalla prima serie. Qui ci vengono delle gabbie per animali, con tutta la paglia intorno, dove ci saranno dentro conigli e galline. Venga, venga. Parichia letto che l'ho fatto, commissario. Borbidissimo. Se dovessi aver freddo, dovessi aver piumone. Casa mia. È la suite che ho preparato dal commissario. Bellissima. Quattro stelle e più. Questo è bello qua. Questo è il garage. Questo è carino. Questo sarà il suo copriletto e poi gli prendiamo delle linzolle con tutti i pupazzetti, come se le avessero prese dal letto dei ragazzini. Proprio buffo buffo che fa morire da ridere. Questo è tutto per la vita.